Ristretto Italiano, edizione Whatsapp. Nei giorni più difficili di Tel Aviv, che notoriamente non è un luogo fresco, non si sta comunque come a Milano adesso. Anche in Italia ormai i condizionatori sono in molte case, dichiara un'altra intervistata di ritorno da Bologna, ma camminare al sole in questi giorni è impossibile. E la cosa ancora più grave è che trovandoci all'inizio dell'estate, i prossimi mesi non possono che essere peggiori. L'unica cosa che non cresce allo stesso ritmo del riscaldamento ambientale, commenta la testata israeliana, è la consapevolezza che tutto ciò accade non solo, ma anche per i nostri stili di vita. Dalla Francia, Van Minou precisa poi che Milano toglie l'acqua fino a settembre a tutte le fontane decorative, lasciandolo a solo in quelle dove sono presenti flora e fauna. Il sindaco ha chiesto inoltre a tutti i suoi concittadini di non impostare il condizionatore al di sotto dei 26 gradi. Allarmismo un tanto al chilo da parte del direttore generale del Touring Club svizzero, Jurg Witwer, che a proposito della stagione delle vacanze, che da loro comincia in questi giorni, in una intervista al domenicale Zonstag Zeitung ha avvertito di prendere molte precauzioni prima di avventurarsi in macchina per l'Italia. Siccome molti svizzeri hanno dichiarato che quest'anno sceglieranno l'auto per la paura degli scioperi dei mezzi pubblici, Witwer ha avvertito che in questa stagione di grande traffico, le officine e i servizi di soccorso stradale italiani arriveranno vicini al collasso e che nel nostro paese il mezzo di soccorso lo puoi aspettare anche per quattro ore. Botticelle vietate a Roma fino al 15 settembre e negli orari dalle 13 alle 17. Le botticelle per i non romani sono le caratteristiche carrozze a cavallo che portano in giro i turisti nel centro della capitale. Le Telegram dalla Francia riporta che il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza per proteggere gli animali e che nei parametri per uscire in strada d'ora in poi, oltre alla temperatura, dovranno essere calcolati umidità, ventilazione e irraggiamento solare. La testata francese sottolinea inoltre che la maggior parte dei turisti sono d'accordo con questa ordinanza. Dal Marocco, Direktamfori, porta alla notizia del cittadino tunisino che per ottenere un tetto e qualcosa da mangiare si è fatto arrestare. Non è la prima volta e è accaduto ancora una volta a Portoferraio all'Elba per farsi accontentare l'uomo che a 33 anni ha scavalcato il cancello della caserma dei carabinieri cadendo all'interno del cortile. E siccome sembra non averli visti troppo convinti, i carabinieri, ha cominciato a inveire e a imprecare contro di loro ed è stato accontentato. Per documentare la reazione dei tatuatori europei alle nuove restrizioni dell'Unione sugli inchiostri utilizzabili per la body art, il New York Times ha mandato il proprio inviato a gradio nello studio di Alex De Paso, uno degli artisti più quotati del continente. Le nuove normative sui pigmenti per tatuaggi e trucco permanente entrate in vigore a gennaio hanno infatti obbligato l'intero settore a riformulare intere linee ed inchiostri. Una decisione è quella di Bruxelles che il New York Times pensa possa aprire la strada a una revisione anche negli Stati Uniti. A farne le spese saranno soprattutto i disegni che richiedono colori diversi dal grigio e dal nero come il verde e il blu in particolare. I sondaggi indicano che in Europa un cittadino su quattro di età compresa tra i 18 e i 35 anni ha almeno un tatuaggio cifra che sale a uno su tre negli Stati Uniti. Era l'ultima notizia. A domani, ci troviamo qui.